È un'avventura incredibile perché c'è la storia di un incontro con la suora che racconta tutta la sua vita e ha passato attraverso tante cose difficili e c'è un testimone incredibile di fede, il fatto della coaggione ovviamente, tutto il processo di ricorricimento e poi oggi la sua testimonianza. Ognuno in Francia chiede una conferenza con la suora, va un po' dappertutto e questo miracolo è anche il miracolo della sua nuova vita che è una vita di testimonia, una piccola suora, sconosciuta da nessuno, era molto dichiapata, aveva difficoltà a camminare, era molto da 40 anni e oggi è come una giovane persona che va dappertutto e soprattutto ha una trasparenza, un'esperienza fortissima e parla a tutta la gente che soffre.